William Wyler, il regista della signora Miniver, dei migliori anni della nostra vita, di vacanze romane. Wyler è qui per dirigere il film Ben Hur, e che da tendere c'è Mr. Astron, che sarà il protagonista del film. William Wyler è nato in Alsazia, in Francia, e il fatto che un regista come Wyler, cioè un regista che fino adesso ci ha dato dei film a carattere psicologico, intimista, faccia un film come Ben Hur, ci fa pensare che non sarà soltanto un film colossale, ma forse qualcosa di più. On l'esper, on l'esper toujours. Si va a essere un film, un spettacolo, e poi noi speriamo anche un tre buon film. Mr. Astron, il Mosè delle Dieci Comandamenti, sarà il protagonista, appunto, sarà Ben Hur. Well, I can only say that although this is my first film for Metro, I have worked for William Wyler before, and I have been in Rome before, and with those circumstances together, I look forward to one of the most exciting pictures I've ever made. I hope so. Well, I hope so. Grazie.